Alessandro Prato, GSCV Longo, è la tua prima gara su strada di quest'anno perché ti abbiamo visto impegnato anche nella mountain bike in questa prima parte di stagione. Raccontaci cosa stai facendo. Eh, faccio di gara un po' misto, un po' mountain bike, un po' strada. Questa qua, sì, come ha detto, è la mia prima gara. E, guarda, oggi sono andato tanto bene in questa gara perché tra la pioggia e il gruppo un po' abbastanza numeroso non sono riuscito a prendere le posizioni giuste. E, invece, con la mountain bike sto andando abbastanza bene nell'Eurobie Cup di Bergamo. Sono, per il momento, secondo in classifica e per un breve tempo sono riuscito ad essere primo in classifica prendendo la maglia, ma dopo subito da una gara con i punti me l'ho superato. Quindi dovresti essere entrati col primo maggio, se non sbaglio. Credo di sì, sì. Perfetto. D'accordo, ti ringrazio e un bocca al lupo per la stagione. Grazie, crepi. Grazie.